Un giovane che si trovava con gli amici nel campetto del villaggio Salpa a Rivarolo Canavesa ha accusato un malore. E' accaduto nella giornata di lunedì 12 giugno 2023, intorno a 17, a un ragazzo che si trovava sul campo con gli amici. Loro giocavano a pallone, mentre lui che era a bordo campo ad un tratto si è casciato a terra. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di Castellamonte e il soccorso del 118 e l'agente di polizia locale di Rivarolo Canavesa. Dopo le prime cure il giovane è stato ritrasportato all'ospedale Molinetti di Torino per accertamenti.